Siamo tutti impegnati in questo momento così difficile a causa del virus a rilanciare ancora con più forza i nostri valori e i nostri obiettivi, che sono gli obiettivi di tutta l'umanità, vivere socialmente uniti, rispettare l'ambiente, essere sempre solidali. Credo che sia importante anche oggi aver premiato nell'Assemblea Internazionale 2020 un progetto molto importante che ha ridato socialità ai bambini dopo il periodo di chiusura. Una socialità con mezzi educativi, col teatro, con la gioia di stare insieme. Credo che il movimento delle città slow sia oggi una bandiera fondamentale per dare un futuro ai nostri giovani, alle nostre generazioni e per fare delle città un luogo di convivenza, di gioia e di piacere.